Le cronache di Peppa Pig Saltiamo insieme! Quando sarò grande, giocherò a calcio tutti i giorni! Con i robot! Su un mascello pirata! Nello spazio! Oggi, Peppa e i suoi amici creano un disegno che li raffiguri quando saranno adulti! Che cosa hai disegnato, Suzy? Questa sono io e sono sulla luna! Farò l'astronauta e passerò tutto il giorno a saltare con i miei amici e gli animi! Oh, ma Suzy, se sarai sulla luna non potremo vederci! Non preoccuparti, tornerò tutti i giorni con il mio razzo! E... insieme faremo un bellissimo picnic con gli spaghetti! Oh, che sollievo! E tu invece, George? Oh cielo! George non ha ancora disegnato niente sul suo foglio! Puoi disegnare quello che vuoi, George! Cosa vuoi fare quando sarai grande? Sarai un uccello? No! Ah! Sarai un pilota che sfriccia sul suo aereo! Fium! No! Ah! Sarai un supereroe! Non capisco proprio... Tutte queste cose volano! Quando sarai grande vuoi saper volare! Ma tu cos'hai disegnato, Peppa? Io ho disegnato tutti noi! Quando sarò grande io sarò... Felice! E circondata dai miei amici! E sarò anche... La più grande campionessa di salto nelle pozzanghere di fango del mondo intero! E... della luna! Peppa e i suoi amici faranno tantissime cose diverse quando saranno adulti! E gli piacerà sempre saltare nelle pozzanghere di fango! Oh cielo! Qualcuno ha rubato il mio cappello a fiori! Salve signora Dolly! Sono l'agente Teddy! Arrivato in soccorso! Peppa e i suoi amici giocano a guardie ladri con i loro giocattoli! Non sono tata io! Io non ho fatto niente! Sono innocente! Sei tu il ladro, signor Robot! Ti dichiaro in arresto! No! Adesso ti metto in prigione! Oh! Grazie, agente Teddy! A te ti piace fare il poliziotto! Ma non so più con cosa giocare adesso! Oh cielo! Prendo le macchinine! Adesso tutti i giocattoli si preparano per una gara! Ferma! Stai andando troppo veloce, Ranocchietta! Ti dichiaro in arresto! Bip! 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 Ma Ranocchietta era in testa alla gara! Adesso il gufo di Susie sta servendo il tè... Ecco il suo tè, signore! Tinosauro di George! No, no! Questo tè è troppo caldo! Ti dichiaro in arresto, signora Dolly! Ma non mi piace la prigione! E ora il dinosauro di George sta giocando... Tutto da solo! Dinosauro, sei troppo disordinato! Ecco cosa sei! Ti dichiaro in arresto! Dinosauro! È stato divertente! A che cosa giochiamo adesso? Oh! Dove sono i vostri giocattoli? Oh cielo! Gli amici di Peppa non sono molto contenti! Non era nostra intenzione farvi arrabbiare! Cercavamo solo di aiutare! Forse dovremmo andare noi in prigione! Oppure... In prigione non ci va nessuno! E tu e l'agente Teddy potete aiutare gli altri proprio come fanno i veri poliziotti ogni giorno! Ottima idea, mamma! L'agente Teddy è al vostro servizio! L'agente Teddy aiuta tutti quanti a gareggiare in sicurezza! Ai vostri posti! Pronti! State molto attenti! Via! A godersi una tazza di tè! Vorresti un'altra tazza di tè, ranocchietta! Adesso non scotta più! Grazie, agente Teddy! E naturalmente a indossare tantissimi cappelli a fiori! Oggi Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio! Ed è così che si fa il dentifricio! Tutto chiaro? Oh, beh, è più importante sapere come ci si lavano i denti! Seguitemi! La fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti! Posizionate il tubetto! Poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario! E qual è la quantità giusta? Mi basta poco poco! Bravissimi! Volete provare? Una porzione di dentifricio perfetta! Ben fatto! Peppa è bravissima a questo gioco! Ma George è un po' confuso! Non così, George! Ti aiuto io! Va messo sullo spazzolino, non in bocca! Bravissimi tutti quanti! Venite con me! Ora spazzoliamo i denti per farli risplendere! Dobbiamo eliminare tutto il cibo! Via, 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 via! Fatto! Bene! Ora tocca a voi! Non forza con quello spazzolino! Fatemi brellare! Peppa è brava anche a questo gioco! Ma George è di nuovo confuso! No, George! Devi spazzolare i denti giganti, non i tuoi! Guarda! Fai così! Bravissimi! I denti adesso sono di un bianco splendente! Rimane solo una cosa da fare! Lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua! Così! Pronti? Attenti! Questo gioco piace molto a tutti! Ma George sta puntando l'acqua verso se stesso! Puntala da quella parte, George! Verso lo spazzolino! Perché piangi, George? Ah! Vuoi lavare i tuoi di denti! George non era confuso! Voleva semplicemente lavarsi i denti! Tranquillo, George! Ci daranno in omaggio spazzolini, dentifrici e altre cose! Vero, signorina coniglio? No! Oh! Sì! Degli omaggi! Ma certo! Come no! Aspettate un momento! Ci ho messo un po' di cose! Ecco qua! Grazie! Grazie, signorina coniglio! Mi raccomando, George! Ne basta poco poco! Poi spazzo gli denti e sciacquino! A George piace lavarsi i denti! A tutti piace lavarsi i denti! Oggi, i bambini sono al laboratorio di ceramica per la festa di compleanno di Gerald e Giraffa! Signor Toro! Non sono stato io davvero! Ciao a tutti! Venite con me! Cerchi di non rompere niente, signor Toro! Potete dipingere qualunque oggetto in ceramica! A vostro piacere! L'unica regola è... divertirsi! Sì! Io voglio dipingere una tazza per mamma e papà! Oh! Anche io! Anche io! E oppure! Che idea? Gerald Giraffa è molto bravo a disegnare! Oh! Sei bravissimo, Gerald! Grazie, Peppa! Che cosa disegni? Ehm... Disegno una giraffa anche io! Anche io! E oppure... Anche io! Tutti vogliono disegnare una giraffa! Proprio come Gerald! Come si disegna una giraffa, Emily? Non lo so! Io sto copiando Susi! E io sto copiando Peppa! E io sto copiando Gerald! Tutti gli amici di Peppa stanno copiando chi gli è vicino! Ecco fatto! Oh! Anche io ho finito! Sì! Anche io! Fatto! Mi è venuta storta! Anche la mia! Anche la mia! Perché il disegno è la coppia di una coppia! Vi divertirete di più disegnando quello che vi ispira! Oh! 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 Fiu! Scusi! Io dipingerò questo! Somiglia alla barca del mio papà! E io dipingerò una ciotola per gli occhiali di mia nonna! Non so mai dove li ha messi! Io dipingerò una tegliera per la mia mamma! Con una grossa proboscis! E io dipingerò una pozzanghera di fango per il mio papà! Ognuno dipinge qualcosa di unico e personale! E tutti si divertono molto! Papà! Guarda il mio piatto! Guarda, nonno! Guarda! L'ho fatto per te, papà! Che bello, Peppa! Somiglia proprio a una pozzanghera di fango! A tutti piacciono i loro regali in ceramica! Oh! Potrebbe imparare qualcosa ai disegni dei bambini, signorina Coniglio! Ma non è il mio? D'accordo! Questa volta non è colpa mia! Oggi Peppa è... una scienziata? Benvenuti al Museo della Scienza! Ah, Peppa e i suoi amici sono al Museo della Scienza con la signorina Coniglio! Mi serve il vostro aiuto per risolvere qualche rompicapo scientifico! Ora, dobbiamo capire come costruire un ponte per questa macchinina, usando soltanto questi materiali! Ah, che cos'è? Guarda quante cose! Boh! Oh, Stucky! Sarò il più veloce a costruire il ponte! Oh! Forse ci vuole qualcosa di più resistente! Un cubo! Secondo me ci vuole qualcosa di più leggero così che galleggi! Proviamo con questi! Peppa sta provando a usare gomma piuma per costruire il ponte! Sì! La gomma è così leggera da galleggiare, ma sorregge il peso dell'alto! Eureka! Cosa vuol dire Eureka, signorina Coniglio? Oh, noi scienziati esclamiamo Eureka quando facciamo una scoperta! Provate anche voi! Eureka! Il prossimo rompicapo è sui colori! Cerchiamo di scoprire tutti insieme come far diventare Madame Gazella verde! Sei diventata blu! Oh, dobbiamo trovare una lente verde in cui guardare! Ma non ci sono lenti verdi! Ma con il giallo e il blu si ottiene il verde! Esatto! Mescolando i colori se ne possono ottenere altri! Peppa e i suoi amici sono pronti per l'ultimo rompicapo scientifico! Possiamo fare lo scivolo, signorina Coniglio! Sì! Dobbiamo capire quale tra gli scivoli è il più veloce! Dividetevi in coppie! Peppa e i suoi amici prendono un sacco per coppia e scelgono lo scivolo! Pronta! Via! Lo scivolo con l'erba è troppo ruvido per essere veloce! Lo scivolo con il tessuto è ancora più ruvido! E ancora più lento! Pronti! Ma lo scivolo in plastica è molto liscio e quindi è molto veloce! Bravissimi! Avete risolto tutti i rompicapo! Nelle scienze si dice fare un esperimento! E come si dice quando si è trovata la soluzione? Madame Gazella, come facciamo a scendere? A tutti piace fare esperimenti! Oggi Peppa e i suoi amici sono in piscina! Cosa farò con voi due? È il momento di tuffarsi in piscina! Cosa sono quelli, Peppa? Sono i miei occhialini! Mi aiutano a vedere sott'acqua come una sirena! Puoi indossarli per il nostro gioco di oggi? Si chiama Qua Qua Honk! Come si gioca? Allora, un giocatore e il fenicottero! Zoe, sarai tu il fenicottero! Sì, sono il fenicottero! Sì, sono il fenicottero! E tutti gli altri sono papere! Bravissimi! Ora tutte le papere nuotano nella piscina e quando il fenicottero dirà Honk... Honk! ...vuol dire che sta per catturare una papera! Chi verrà catturato dovrà fare il fenicottero nel turno seguente! Pronti? Via! Tutti si divertono a fingere di essere papere! Qua Qua Honk! Ma adesso il fenicottero Zoe sta venendo a prenderlo! Sì, ti ho preso, Gerald! Oh no! Adesso, Gerald Giraffa è il fenicottero! Honk! Honk! Dove siete, paperine? Qua 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 Qua! Ti ho preso! Peppa e i suoi amici si divertono moltissimo a giocare a Qua Qua Honk! Dov'è il fenicottero? Non voleva dire... Honk! Qua Qua Qua! È il tuo turno come fenicottero, Peppa! Qua Qua! Qua Qua! Sì, signorina Coniglio! Come facciamo a sapere chi ha vinto? Ti ho presa! Per quello ci vuole un altro gioco! Si chiama Gelatina sul piatto! Forza, salite sopra! Chi cade per ultimo in acqua vince! Tutti salgono sul galleggiante! Ma è molto traballante, proprio come... C'è la Gelatina! C'è la Gelatina! C'è la Gelatina! Che traballo, che traballo! Che traballo, che traballo! Siamo caduti di sotto! Allora vuol dire che... Tutti abbiamo vinto! A tutti piace giocare in piscina! E a tutti piace vincere insieme! Oggi, Peppa è in maschera per la festa a tema spazio di Susy Pecora! Sull'autobus delle feste! Un altro atterraggio sicuro! Ci sono tante cose da fare sull'autobus! Ha visto Susy? Sono io, Susy! Non sono un'aliena vera! E io sono un robot! E io una stella! E io una principessa dello spazio! Zà! Sì! Zà! Benvenuti a bordo tutti quanti! Siete pronti per la festa nello spazio? C'è una pista da ballo spaziale Del cibo spaziale De spazio! E ovviamente ci sono giochi spaziali! Chi vuole giocare affassa il regalo nello spazio! Quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto Che a te, Danny? Evviva! Oh no! Le mie mani robotiche non riescono a... Oh, non c'è problema! Abbiamo tanti giochi per robot! Come... Afferra la stella cadente! Siete pronti? Sì! Pronti? Via! C'ero quasi! Lo prendo io! Lo prendo io! Ops! Facciamo un altro gioco! Metti l'occhio sull'alieno! Oh! Posso provare io! Mettiamo una benda così non puoi spirciare! Pronta? Vai! Scusa! Mi sta proprio bene! Non c'è niente che gli astronauti e gli alieni e le stelle e i robot e le principesse possono fare insieme! Se tutti si allacciano le cinture possiamo decollare tra tre... Due! Uno! Sì! Oh sì! Io adoro volare nello spazio! Questa! Un disco volante! A tutti piace l'autobus delle feste! Oh! È un alieno con un robot! E quello è un astronauta! E a tutti piace sfacciare nello spazio! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo a una mostra sui dinosauri! Scusate! Non volevo spaventarvi! È così che i dinosauri dicono ciao! Allora! Volete vedere un dinosauro vero? Nella nostra nuova sala si può andare indietro nel tempo e avere la sensazione di incontrare i dinosauri! 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 Credo voglia dire sì grazie signora Goni! La sala del viaggio nel tempo porta nel passato! Quando i dinosauri esistevano ancora! Attenzione! Vogliamo essere certi che viaggiate in tutta sicurezza! D'accordo? Mani e piedi devono restare dentro la macchina per tutto il tempo! Se volete guardare da più vicino potete usare questi binocoli speciali! E mi raccomando! Non dovete calpestare le farfalle! Ma nessuno calpesterebbe mai una farfalla signorina coniglio! Non si sa mai Peppa! Comunque si parte! La macchina del tempo sta portando tutti a un'era in cui esistevano ancora i dinosauri! Tanto, tanto tempo fa! Ci siamo! Guarda! Ha funzionato! Certo che sì! Nella giungla dei dinosauri ci sono molte attrazioni! Guardate! Un vulcano! E tantissimi sterodacchi di volanti! Come sono belli! Ma c'è soprattutto una sola cosa che Giorgio vuole vedere! Dinosauro! Dinosauro! Arriverà presto! Ma ricorda! I dinosauri veri erano molto più grandi di quello, Giorgio! Siete pronti? Oh, caspita! Il dinosauro è più spaventoso di quanto Giorgio avesse immaginato! È scaduto! Scusa, Giorgio! Il mio amico dinosauro non voleva spaventarti! È così che i dinosauri dicono ciao, ti ricordi? Forse dovremmo ruggire anche noi per salutarlo, vero? Così capirà che siamo amici! E la cosa bella dei viaggi nel tempo è... Che possiamo sempre tornare indietro! Sei pronto per riprovare, Giorgio? Preparatevi! Pronto, Giorgio? Uno, due, tre! Ce l'hai fatta, Giorgio! Giorgio è molto contento che Peppa l'abbia aiutato a prendere coraggio! Lo vuoi fare di nuovo? D'accordo allora! E Giorgio è davvero felice di aver incontrato un dinosaurio! Signorina coniglio! Aspetta, abbiamo altri lettere! Oggi Peppa e Giorgio giocano a fare i postini! Hanno delle lettere molto speciali da inviare! Salve! Devo consegnare quelle lettere? Sì, per favore! Sono lettere speciali per mamma e papà Pig! Peppa e Giorgio hanno persino creato dei francoboli speciali! Oh! Siete giusto in tempo per la raccolta di oggi! Mettetele nella buca delle lettere! Evviva! Ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere! Ho un bel po' di consegne da fare! Vi andrebbe di invitarmi? Possiamo! Non vedo perché no! Avete l'uniforme giusta! Evviva! Peppa e Giorgio sono entusiasti di fare i postini! Proprio come la signorina coniglio! Per prima cosa dobbiamo andare al centro di smistamento! Qui è dove separiamo tutte le lettere! Così sappiamo dove consegnarle! Oh! C'è tantissimo! Sì! Perciò abbiamo macchine come questa che ci aiutano! Dinossau! Quelli sono francobolli speciali che Peppa e Giorgio hanno creato per le loro lettere, signor Zebra! Hanno la super super priorità! Abbiamo un'emergenza consegna! Codice rosa! Tutti si affrettano a preparare le lettere di Giorgio e Peppa per una consegna più rapida possibile! Oh! Andiamo! Abbiamo un bel po' di tappe da fare! Oh! Peppa e Giorgio si divertono molto a fare le consegne con la signorina coniglio! Alcune buche sono un po' troppo alte! E altre hanno una forma strana! Ma ogni lettera arriva al suo destinatario Finché non ne rimangono solo tre Deve essere la posta! Vado io! Caspita! Questi postini hanno un aspetto familiare! Ma sono Peppa e Giorgio! Mi hanno aiutata a consegnare la posta tutto il giorno! Abbiamo delle lettere speciali con francoboli molto particolari! Sono proprio speciali! Peppa e Giorgio adorano fare i postini! E mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali! Oggi Peppa e Giorgio giocano a fare i ristoratori! Buonasera! Abbiamo una prenotazione al ristorante il dinosauro verde! Signora mamma e Giorgio! Signora mamma e papà! Siete in ritardo! Da questa parte! Da questa parte prego! Stanno preparando una cena romantica! Per mamma e papà! Avete fatto molta strada! C'è un traffico terribile Oda! Sì il traffico era! Ecco il menù! Sembra delizioso! Credo che comincerò con l'insalata! Anche io per favore! Arriva subito! George si sta dando da fare in cucina! Ottimo lavoro Chef George! Devo dire che l'atmosfera è proprio romantica! Ecco qua! Due buonissime insalate! Giusto! I miei complimenti al cuoco! Sì! È squisita! Grazie! George sta preparando il primo piatto! Gli spaghetti! Ciao Chef George! Complimenti al cuoco! È un quesito! Mi ricorda la cena che preparasti per uno dei nostri primi appuntamenti! Le mie insalate di plastilina sono leggendali! Gradireste una ballata romantica? Oh sì! Avete... Vieni George! A Peppa e George piace molto suonare musica romantica! Soprattutto se ha volume molto alto! Evviva! Evviva! Bravi! Bravissimi! Bravissimi! Viss! Vogliamo il... Voglio dire... Bravi! Ben fatto George! Vi lasciamo a voi due! Sì! Un po' di pace! Ecco gli spaghetti! Buon appetito! Sì! Un po' di pace! Ecco il dessert! Ecco il dessert! Il conto è... Duemila milioni di sterline, per favore! Oh! Così poco? Grazie per favore! Non c'è di che! E grazie anche a te, Chef George! E ora che cosa farete con tutti questi piatti? Oh no! Andiamo a nanna! Buonanotte, signora mamma e signor papà! Corri! Ma sono solo le quattro e mezzo! Il ristorante Dinosauro Verde adesso è chiuso! Oh mamma! Mi scappa forte e forte la pipì! Oh! Mamma! Non ce la faccio proprio più! Tranquilla Peppa! C'è un bagno proprio qui! Oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno! E questo è un bagno molto speciale! E dov'è il batter? Oh Peppa! Non so proprio dove sia! Eccolo! Serve anche a te il bagno, George! No! Ecco fatto! E adesso mi lavo le mani! Fresche e pulite! Vediamo come mandare giù l'acqua! Il pulsante sembra questo! Peppa, per sbaglio, ha acceso l'asciugamano! Ops! Forse era quest'altro! O forse è questo! Mamma! Per favore! Possiamo andare in bagno? E' rimasto solo un pulsante da premere! Lo sciacquone deve essere questo! Ecco fatto! Senti, George, sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? No! Benissimo! Andiamo allora! Mamma! Abbiamo fatto un disastro qui! Tranquilla! Questo è un bagno molto particolare! L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire! E come per magia? Da-da! Il bagno, come per magia, si pulisce da solo! Questo bagno è fantastico! È fantastico! Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa! Oh! Ma George comincia a lamentarsi! Che succede, George? Devi andare in bagno? Ma ci siamo appena stati in bagno! Va bene, ci ritorniamo! Speriamo che tu possa resistere! George ha proprio bisogno di quel fantastico bagno! Tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno! Hai il microfono spento! Non ti sentiamo! Oggi, mamma Pig ha una videochiamata! Va bene, mettiamoci un punto! Nel frattempo... Scusate! Spengo il microfono solo un attimo e torno da voi! Ciao, mamma! Ci annoiamo! Ci hanno più un po' con noi! Non posso, mi dispiace! Ho una videochiamata! Vogliamo provare anche noi! Prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi! Andiamo, George! Papà Pig organizza una videochiamata con nonna Pig e nonno Pig! Ciao, Peppa! Ciao, George! Ci sto io davanti allo schermo, George! George, riesci a sentirmi? Dove è andata Peppa? Sono qui! Peppa sta chiamando dal tablet di papà Pig! Nonna, nonno, mettiamoci un punto! Mettiamoci un punto? In che senso? Deve essere il bussante con i tre puntini! Non era quello! Nonno Pig ha attivato un filo! Siete robot! E George è un pupazzo di neve! E io sono il mostro mangio spaghetti! Ci sono tanti filtri divertenti da provare! Ora ci siamo! E adesso dove vai, Peppa? Ora ci sono due Peppa nella videochiamata! Ciao! Da qui si sente un po' di eco, Peppa! Andiamo a chiamare la mamma! Attiva l'audio! Persino io l'ho imparato! Ops! Scusatemi tanto! Dov'è papà? Sono qui! Dinosauri! Adesso ci sono tutti in videochiamata! E sono tutti dinosauri! E' ora di interrompere! Ciao nonno! Ciao ciao! A presto! Ciao! Forse per oggi possono bastare gli schermi! Sì! Mettiamoci un punto! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato! Vanno alla cassa per pagare le cose che hanno preso! Scusate! Devo andare in bagno ma... Voi potete usare la cassa automatica! Alla cassa automatica possono scannerizzare i prodotti e pagare la spesa da soli! Questo robot della spesa è enorme! Vi va di scannerizzare la spesa? Sì! Salve gentili clienti! Ciao amico robot! Mettere la borsa nell'area sacchetti, grazie! Ehm... Borsa! Sì George! La borsetta di mamma è una borsa! Questa borsa non è corretta! Il robot vuole le borse della spesa! Queste borse sono corrette! Scannerizzare i prodotti! Peppa e George amano scannerizzare i prodotti! Articolo non scannerizzato! Si prega di riprovare! Bip! Articolo non scannerizzato! Si prega di riprovare! Altre persone che vogliono usare la cassa automatica si mettono in fila! Articolo non scannerizzato! Non funziona! Articolo non scannerizzato! Articolo non scannerizzato! Articolo, 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 articoli scannerizzati! Oh sì! Appoggiare le dieci confezioni di succo nell'area sacchetti! Dieci? Non ci serve tutto questo succo! Cancella succo! Aggiunto altro succo! Appoggiare le 60 confezioni di succo nell'area sacchetti! Cancella! Cancella! Così dovrebbe funzionare! Mamma Pig è molto brava con i computer e con i robot della spesa! Articolo scannerizzato! Come si fa con questo, mamma? L'ananas non ha l'etichetta da scannerizzare! Dobbiamo cercarlo sullo schermo! Pigne? No! Pinoli? No! Ah! Ananas! Perfetto! Ah! Sì! Articolo troppo leggero! E adesso com'è? Articolo troppo pesante! Errore! 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 Pugniamo così! Errore! 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 Premete il pulsante laterale! Errore! Tutti nel supermercato li stanno aiutando, ma nessuno sa cosa fare! Commessi troppi errori! Oh no! Il robot della spesa si è rotto! Eccomi! Sono tornata! A chi tocca? Tocca a me! Io! Io! Toccano l'olio! Ci sono io! Oh no! Oh no! Tremendo! Tutti amano fare la spesa! Prego! Scannerizzare i prodotti! Ma non tutti amano il robot della spesa! Oggi è il giorno dei pancake! Quindi Peppa e la sua famiglia sono andati in un ristorante di pancake! Oggi sarò la vostra scelta! Vi farò i pancake al vostro tavolo e voi potrete aiutarmi! E che tipo di pancake possiamo fare? Di qualunque tipo! Abbiamo tantissimi ingredienti! Io vorrei un pancake ai funghi speciali, grazie! Per me un pancake alla banana banana lizioso! Con banana extra, per favore! Arrivano subito! La signora coniglio è brava a fare i pancake! Grazie! Ora mettiamo un po' di colore! Poi aggiungo i funghi! Le banane! E altri banane! Oh! E ora la parte migliore! Annusare! Mangiare! Girarle! Esatto! La signora coniglio è molto brava a cucinare i pancake! Oh! Ah! Ah, tada! Bene! E ora che cosa metto nei vostri due pancake? Io vorrei un pancake ciocco-cioccoloso al cioccolato! Grazie! Sei proprio una golosona! E tu, George? Verde e rosso! Oh! Piselli con... Pomodori per George! E l'ananas? Il cocco? La verza? E... Questo! No! Quelli sono peperoncini! Peppa e George adorano i pancake con qualsiasi ingrediente! Anzi, con tanti ingredienti! Oh! Mi aiutate a girarli! Sì! Allora, adesso al mio tre, li fate girare molto delicatamente! Uno, due... Via! Peppa e George hanno lanciato i pancake molto in alto! E i pancake finiscono sul piatto del signor Toro! Grazie mille! È dolce... È salato... Croccante... E... Piccante! È delizioso! È un pancake a sorpresa speciale! Peppa e George adorano cucinare pancake a sorpresa speciali! A quanto pare devo cucinarne altri due per voi! Sì! Sì! Ma amano ancora di più mangiarli quando sono pronti! Oh! Oggi Peppa e la sua famiglia sono all'aeroporto! Stanno per andare in Spagna in aereo! Vengono tutti in Spagna con noi! Deve essere un aereo davvero enorme! E ora dove? Dove? Da questa parte è il volo per la Spagna! Non temete! Là non pioverà! Allora andiamo! Passaporto e carta di barco! Hola, signora! Vuol dire ciao in spagnolo! Hola! Non sapevo che parlasse spagnolo! Come sta, signor Pig? Papà Pig non parla spagnolo! Ma lo sta imparando con un'app! Calcentines! No, grazie! Ne ho già un paio! Non ci assomigli per niente, mamma! È una foto un po' bella! Ecco il passaporto di Teddy e di Dinosauro! Dinosauro! Grazie! Ora controlliamo che i bagagli non siano troppo pesanti per l'aereo! Ciao, ciao, bagagli! Ciao, ci vediamo in Spagna! Adios! Oh no! La valigia è troppo pesante! Dovrà togliere qualcosa per alleggerirla un po'! Dovrò trovare un posto per i cappelli! Peppa e la sua famiglia sono arrivati ai controlli di sicurezza! Mettete i vostri oggetti nel vassoio e poi procedete da questa parte! Gli scanner controllano che non ci sia niente che non sia permesso portare in avione! Aereo si dice così! Ora potete passare insieme! Dinosauro! Scusi, mi sono dimenticata questi! Scusi! Cos'è quello là? Questo è un tappi rullano! Peppa e George sono sul tappi rullano! È un tappeto mobile che aiuta le persone ad arrivare più velocemente a destinazione! Ci sono tanti negozi! E una poltruz per massaggi! Ora ci rilassiamo fino al momento della panorrenza! Ultima chiamata per il volo per la Spagna! Dirigersi al gate! No! L'aereo sta partendo! Peppa adora andare in vacanza con la sua famiglia e adora divertirsi all'aeroporto! Benvenuti agli annaffiatoi galleggianti! Oggi Peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acquaio! La parca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori! E come possiamo farlo? Con questo! Molto meglio dei nostri annaffiatoi! Posso provare, mamma! Ma certo! Molto divertimento! Che tranquillo! Hai ragione, Lino! Io mi sento in pace all'universo! Peppa e George devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno! Ti aiuto io, George! È un gioco difficile! Eccone uno! Pronti e... Ah! Il mio figlio! Ben fatto, George! George ha spruzzato un fiore al primo tentativo! È sempre più difficile! Non importa se ti sbagli, George! Peppa ha qualche difficoltà a rinno, però... Tranquillo! Se vuoi, ti aiuto io! Come? Cosa? Dove sono? Ah, già! Ma tutto bene, Peppa? George sta spruzzando tutti i fiori! E io no! So che è difficile, ma non c'è niente di male se George è più bravo in qualcosa! Ma io sono più grande! Guarda, io sono molto più grande! Ma tu sei più veloce di me! E soffri di più isoletico! A volte l'età non conta, ciò che conta è lavorare insieme! Quando ci sono più grande! Ma insieme, soffri ancora di più isoletico! Va bene! George si è un po' spaventato! Tranquillo, George! È solo un gioco! E tu? Basta così, Chiore! Non sei stato per niente carino con il mio fratello! Ce l'ho fatta! Forza, George! Dobbiamo lavorare insieme! Sei proprio bravissimo! Ce l'abbiamo fatta! Bravissimi! Peppa e George! Peppa e George hanno annaffiato tutti i fiori! Adorano gli annaffiatoi galleggianti! Vedete? Formate davvero una bella... Una bella squadra! Oggi, Peppa e George vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale! Andiamo un po' di fretta, quindi fate presto, per favore! Ciao, mamma! E non perdetevi! Il primo gioco è un grande castello gonfiabile! Ciao! Scusate, non possiamo giocare, siamo un po' di fretta! Andiamo, George! Peppa è passata dall'uscita blu! Ma George, per sbaglio, passa per quella rossa! Questo è un tunnel gonfiabile! E c'è anche Susy pecora! Ciao, Susy! George e io! Dobbiamo proseguire perché... Andiamo di fretta! Andiamo di fretta! Ciao! George! Questo posto è super molleggiato! Ciao, Rebecca! L'uscita è da questa parte! Andiamo di fretta! Sì! L'uscita è là! Siamo finalmente all'uscita! Sei stata brava, Peppa! Dov'è George? Io pensavo fosse dietro di me! Forse si è perso nel labirinto! Perso! Dobbiamo trovarlo! George non si è perso! Si sta solo divertendo! Avete visto mio fratello George? È andato! È da quella parte! Ma mamma Pig non sa rimbalzare bene come Peppa! Arriviamo, George! Coraggio, mamma! Cadere è tanto divertente quanto rimbalzare! Eccolo! Siamo qui, George! Evviva! Ti abbiamo trovato! Adesso dobbiamo tornare a casa! George non vuole tornare a casa! Si sta divertendo molto nel labirinto gonfiabile! Bene! Allora vediamo se riusciamo a prenderti! Peppa e George amano giocare nel labirinto gonfiabile! Preso! E adesso non voglio perderti mai più! Attenti là in fondo! Ora dobbiamo proprio andare! E piace anche a mamma Pig! A presto, mamma! Ciao! Papà Pig deve prendere una cosa in ufficio! Così Peppa e George fanno con loro! Scusi, signor coniglio! Oh! Oh! George adora i pulsanti dell'ascensore! Oh cielo! A quanto pare l'ascensore si è rotto! Oh! Non così, George! Non preoccuparti, George! Sono un esperto di ascensore! Lo sai? Oh! I pulsanti dell'ascensore non funzionano! Ciao! Benvenuti nell'ascensore! Ah! È un ascensore magico! No! Funziona a comando vocale! Questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare! È molto facile! Salve, ascensore! Avremo bisogno di andare al mio ufficio, per favore! L'ascensore funziona di nuovo! Evviva! Secondo piano! Ufficio alveare! Ma non li ha portati nell'ufficio di papà Pig! No! Non ufficio alveare! Ufficio, per favore! Sesto piano! Ufficio provole! Adoro il formaggio! Ho detto! Ufficio! Sedicesimo piano! Ricciola! Sei un ascensore monello! L'ascensore sembra non capire la voce di papà Pig! Ci provo io! Ci porti dove papà ti ha detto! Siamo in arrivo al tetto! Non al tetto! Dove papà ti ha detto! Peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare! Ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati! A piani paurosi! A nessuno! E a piani in cui si fa festa! Ma nessun piano è quello giusto! Finché... E' il mio ufficio! E' il mio ufficio! E' il mio ufficio! Ciao mamma Pig! Abbiamo avuto un problemino con l'ascensore! Torniamo subito! Peppa e George adorano l'ascensore magico! Sì! Ma papà Pig preferisce usare le scale! Consegna per mamma Pig! Oggi mamma Pig ha ricevuto un pacco! Oh grazie tante! So esattamente di cosa si tratta! Peppa e George saranno entusiasti! Mamma Pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli! Ed è... E' a forma di pinguino! Ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni! Salve signor pinguino! Come funzioni? Adesso mi ricordo! Ne avevo uno alla tua età! Devi solo... Mamma Pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli! Forse è meglio leggere le istruzioni! Ah! Giusto! Ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli! Il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovetta! Si sente tritare! Fiu! Adesso si tira su lana! Oh! Il ghiaccio è diventato soffice! Ora aggiungiamo la frutta! Lamponi! Li adoro! Poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi! George ha i bastoncini! Guarderanno per tenere in mano il ghiacciolo! Ben fatto, George! E ora dobbiamo solo aspettare che si congelino! Facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo! Sì! Mertilli! Adoro anche queste! Per me anche! Prego! E alla banana! Peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli! E divertendosi molto! Ma a un certo punto... Oh! Abbiamo finito la frutta! Come facciamo adesso? Si può! Ho portato della frutta fresca del nostro giardino! Non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? Oh! Sì! Sì! Mi dispiace, ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli! Oh! Perché no? Perché prima dobbiamo fare spazio in Criddle mangiando intanto questi! Sì! Evviva! Peppa adora fare i ghiaccioli! Soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta! Oggi Peppa e i suoi amici si stanno divertendo all'aria ghiaccioli! Oh! Papà! Aioh! George! Che cosa succede, George? Ti sei fatto male! Oh! Vieni qui! Penso che molti rumori e tanto movimento siano troppo per George! Cerchiamo un posto tranquillo dove ritrovare la calma! Oh! Io so dove possiamo andare! Tutti vanno verso una zona speciale dove George potrà sentirsi meglio! Questi colori e le cose soffici mi aiutano quando non mi sento bene a farmi stare più tranquilla! Ottimo! Adesso proviamo tutti quanti insieme a fare qualche respiro profondo! Forza! Espiriamo! Ora lasciate che la mente si rilassi! Susy Pecora e Papà Pig sono molto rilassati! George invece è ancora turbato! No! Guarda cosa c'è qui! Vuoi andare a vedere cosa c'è, George? Scusate, stiamo andando via! C'è un'altra area piena di giochi molto particolari! Guardate qua! È questo! Squish! Oh, George! Guarda cosa faccio! Wow! Io preferisco la mia copertina morbida! No! No! Quest'area non mi sembra adatta per George! Ho trovato! Seguitemi! Peppa ha visto un altro posto che potrebbe piacere a George! È l'area verde! È come essere nella natura, ma al coperto! Che buon profumo questi fiori! Sentite gli uccellini! E a che potesse che... Mi sento proprio bene! Molto, molto rilassata! Vogliamo riprovare a fare dei respiri profondi? Di nuovo! Ci penso io, papà! Forza! Ispiriamo! Espiriamo! Ispiriamo! Espiriamo! Sei più calmo adesso, George! È importante fermarsi un momento e riprendersi dopo aver esagerato! A George piace l'area verde! Possiamo restare ancora un po'? Ma c'è! Nella zona della calma ci sono diversi modi per stare tranquilli! A George piace l'area verde! Ed è contento quando i suoi amici e la sua famiglia lo aiutano a riprendersi! Oggi, Peppa e la sua famiglia sono andati al cinema a vedere un film di avventura! Oggi, Peppa e la sua famiglia è un film di avventura! Oggi, Peppa e la sua famiglia è un film di avventura! Non si ricordano da quale porta sono usciti? Penso che siamo usciti da quella blu, papà! Ma nella sala con la porta blu c'è un film sulle sirene! Susi Pecora lo sta guardando con la sua mamma! Oh, Peppa! Ciao, Susi! Oh, adoro le sirene! Possiamo guardare questo film, papà! La prossima volta! Oh, guarda! Una porta rosa! Entriamo, forza! Non riesco a vedere mamma Peek e George! Nella sala con la porta rosa, il signor Toro e la signora Mucca stanno guardando un film romantico! Lei lo ama così tanto! Non era certo quella la sala! Proviamo la porta gialla! La porta gialla si apre sulla sala di proiezione, dove lavora la signorina Coniglio! Oh, ma che sorpresa! Cosa fate da queste parti? Siamo andati in bagno, ma non ci ricordiamo più in quale sala stavamo guardando il film! Qui è dove si proiettano i film, e quindi non è il posto dove si possono guardare! Ma tranquilli, vi aiuto io a trovare la sala! Il vostro era un film sui dinosauri? Per George sarebbe stato perfetto! Ma non è quello che stavamo guardando! Era un film comico? No! Forse la porta è questa! No! Lì è dove teniamo i pop-corn! Ops! Scusi! Tranquilla! Ci succede spesso! Questo è il nostro film! Presto papà! Grazie signorina Coniglio! Oh, ma dove eravate finiti? Ci siamo... formati per i pop-corn! Peppa ama guardare i film d'azione con la sua famiglia! Ma le piace anche perdersi in avventure con papà Pig! Oggi Peppa e George fanno molto chiasso! Peppa, perché non andate a giocare in salotto? Potete usare questi foglietti adesivi per creare delle immagini! Grazie, mamma! Sì! Così va meglio! Abbiamo finito, mamma! Già fatto? Che veloce... Oh, che belli! Questa è la mamma e quest'altro è il papà! E George ha fatto un... Dinosaur! Ma è identico a me, Peppa! Fantastico! E questo sul pavimento? È una pozzanghera di fango! E cos'altro, se no? Però si può anche disegnare sui foglietti adesivi! Come gli indizi per una caccia al tesoro! Beh, io pensavo piuttosto a... Andiamo, George! È pronta! Peppa e George hanno creato un percorso con i foglietti! Oh, ma che bella idea! In fondo al percorso troverete un tesoro! Via! Mamma e papà Pig seguono il percorso per trovare il tesoro! Cercano nel letto di Peppa, nella vasca da bagno, nel corridoio e alla fine... Ta-da-da! Oh! 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 Ma guarda! Sono... Dei... Foglietti adesivi! È un banchetto! Certo, sì! Un banchetto! Peppa e George hanno creato uova fritte, zuppa di pomodoro e persino... Ah! Un toast allo zucchero filato! Usando solo foglietti! Perché non giocate a qualcos'altro mentre noi puliamo? Mangiamo tutto questo cibo! Gnam! Gnam! Come travestirsi! Va bene, mamma! Andiamo, George! I piatti li laviamo dopo! Questa l'ho già sentita! Abbiamo mangiato tutto, Peppa! Era delizioso! E noi ci siamo travestiti! Peppa e George hanno usato i foglietti adesivi per creare costumi! Oh! Beh, allora... Io sono il grande mostro dei foglietti adesivi! Oh! E io sono il mostro dei foglietti adesivi ancora più grande! Peppa e George adorano giocare con i foglietti adesivi ma soprattutto adorano giocare con mamma e papà Pig! Oggi Peppa e la sua famiglia vanno a una gara di torte per la festa del paese! Non vedo l'ora di assaggiare le torte della gara! Che ci fa qui una scarpa? Non è una scarpa! È la mia torta, Peppa! Questa è una gara in cui ognuno fa delle torte che sembrano altre cose! Ma, nonna, se le torte sono fatte come torte la gente si confonderà! Esattamente! Allora, Peppa, vuoi aiutarmi a scegliere la miglior torta che non sembri una torta vera? Sì! Che bello! Peppa cerca di ingannare papà Pig con una torta che sembra un telefono è una torta! È molto divertente! Vuoi per caso una tazza di tè, mamma? Sì, grazie! Questo tè è fatto di torta! La torta ti ha ingannata! Congratulazioni per la carota più grande! Grazie! Mi dispiace, ma il premio era per la carota più grande non per la torta a forma di carota! Ma è un'ottima torta a forma di carota! Adesso il signor Toro deve assegnare il premio per la miglior torta che non sembra torta! La miglior torta che non sembra torta è... Questa! A dire il vero è il mio pranzo! Oh, ma certo! È vero! In tal caso la vincitrice è... Questa! Oh, è molto realistica! No! Ma lui è George! Oh, alla fine ci sono cascato! Allora, la vincitrice è... Questa! Mamma pecora ha vinto il primo premio! Questa sembra una torta al cioccolato! Ma in realtà... È alla fragola! Oh! Peppa, puoi passarmi il trofeo? Sì, ecco il tro... Anche il trofeo è una torta! E ora tutti mangiano le torte! A tutti piace mangiare torte che sembrano altre cose! Dove avrò messo il mio cappello? E a tutti piace cadere in ingato! Marmellata! Uova! Pomodori! Noce di cocco e gelatina! Oggi è la festa della mamma! E Peppa e George stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma! Avete iniziato a preparare senza di me! Che cosa prevede il menù, piccoli chef? Passo! Tutto quanto con pari tostato! Allora diamoci da fare! Oh, bravo, George! Forse è un po' troppo! Attento, George! Dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma! Per mostrarle quanto le vogliamo bene! Proprio così! Eh sì! Il pane! Tadà! Sì! È ora della marmellata, George! Mamma ama la marmellata sul pane! La marmellata piace molto anche a George! Mamma Pig è molto felice di fare colazione a letto! Ma a quanto pare la colazione si sta un po' bruciando! Il pane! Il pane, papà! Un secondo, Peppa! Magari questa fetta la mettiamo sotto le altre... Ottima idea! Veloce! Mamma Pig si sveglierà fra poco! George! A George piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate! Per fortuna ci sono molte altre cose! Uova e fagioli! Pomodori! Cetrioli! Formaggio e mostarda! Gelasina! Un cocco intero! Mammellata! Sì! Forse dovrei andare a controllare! Una, due, tre, una testa della mamma! Oh! 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 Che bella sorpresa! Ti abbiamo preparato un toast universale! C'è di tutto! Tranne la marmellata! Mamma Pig adora la colazione a letto che le hanno preparato! Anche senza marmellata! Dinosaur! Oggi mamma Pig porta Peppa e George a fare una visita speciale al negozio di giocattoli! Ciao! Sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo! Per caso li avete visti? Siamo noi! Ah sì? Che cosa aspettiamo allora? Andiamo! Evviva! Qui potete creare il vostro giocattolo speciale fatto su misura per voi! Oh! Selezionate quello che volete! Un robot? Una principessa? Un mostriciattolo? Oppure un... Dinosauro! Non sapevo che ti piacessero i dinosauri! Dinosauro! Oh, dinosaurio! Dinosauro! Sì, sì, George adora i dinosauri! Sono i suoi giochi preferiti! Allora immagino che abbia già deciso! Divertetevi! Ottima scelta, George! Bellissimo! Un astronauta! Un mostro! Una supereroina! Peppa e George adorano creare i loro giocattoli, ma hanno gusti molto diversi tra loro! Il mio è un robot dinosaurio! Fantastico! Ora con un pizzico di magia... La macchina creerà i vostri giocattoli! Ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli! Ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere, ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli! Evviva! Perfetto! Inseriamoli! Accidenti! La macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli! Oh! La macchina ha invertito i vestiti, signorina coniglio! Oh sì! Beh, a me sembrano comunque divertenti! E molto originali! Volare è bello! Aspettaci, Peppa! Yuhuu! Oh! Cos'è questo posto? Questa è una macchina di giocattoli speciale! Dai, metteteli al centro, Peppa! Cosa sta facendo? Oh oh! Stai ferma! Cos'è successo? Ta-da! La macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa! Guarda, George! Sono piccola! E questo sei tu! Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio, ma George ama anche essere un giocattolo! Ciao! Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino! Signorina Coniglio, possiamo ritirare il nostro elegantissimo palloncino e gola... Che bello! Il negozio di palloncini è pieno di palloncini! Signorina Coniglio! Oh, mi avete trovata! È da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini! Ma sarà ora di pranzo ormai? È mercoledì, signorina Coniglio! Oh! Comunque, ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili, pronti per la festa! Tutti questi? Ma ne avevamo ordinato solo uno! Qui c'è scritto... Mille palloncini per la festa di Mamma Pig! Non ce ne servono così tanti e non voglio sprecarli! Come facciamo adesso? Io lo so! Li possiamo regalare! Peppa e la sua famiglia regalano i palloncini in più a tutte le persone che incontrano! Uno a te! Oh, grazie! E ne do uno anche a voi due! Ecco a te! Palloncino rosso! Uno verde a te! Preso! Ne mancano solo 992! Non ce la faremo mai a darli tutti! Oh, oh! E dobbiamo andare a preparare la festa! Mi è venuta una grande idea! Prendete qualche palloncino e venite con me! Oh, oh! È l'ora della festa! E tutti gli invitati iniziano ad arrivare! Ciao, Susy! Ecco il tuo palloncino! Grazie! La signorina coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini! La signorina coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini! O chiunque! Ecco a te! È proprio come me! E questo assomiglia a me! Inizia la gara di palloncini! Non preoccuparti se un palloncino scoppia perché ne abbiamo tantissimi altri! Tutti avrebbero amato la festa in giardino di Mamma Pig! Ma tutti amano ancora di più la festa di palloncini! Oggi Peppa e Susy giocano nella casa sull'albero! Oh, ciao Susy! Entra pure, vieni! Oh, grazie! Sei gentilissima! Giocano a fare le adulte! Adesso ci beviamo una bella tazza di tè! Oh, è proprio brutto il tempo oggi, non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta! Scusate le interruzioni! La tua mamma è venuta a prenderti, cara Susy! Oh! Ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti! Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? Ti prego! Oh, ehm... Certo che potete! Tu e Susy potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno Pig dormiremo in una tenda qui sotto! Che città! Peppa e Susy sono molto felici di dormire nella casa sull'albero Ecco i vostri sacchi a velo! I cuscini! Un sacco di morbidi peluche! E la cosa più bella? Una lanterna stellata speciale! Che bello! Ta-da! Ho finito! Oh! Chissà cosa serviranno questi! Anche nonno Pig è felice di dormire in tenda Forse mi sono sbagliato! Ma prima deve rimontarla! È ora di andare a letto! Quindi nonna e nonno Pig entrano nella tenda! Buonanotte tesorini! Noi siamo qui se avete bisogno! Guarda, Susy! La mia ombra è grandissima! La mia è un uccellino! Cip, cip! E la mia è una farfalla! Oh! Ha un rumore fortissimo! Nonna Pig! Vieni sull'albero! C'è qualcosa che non va? Abbiamo sentito un rumore forte! Come? Oh! Santo cielo! È un mostro! Non c'è nessun mostro! È il nonno Pig che sta russando! Peppa e Susy amano dormire nella casa sull'albero! Anche con nonno Pig che russa nelle vicinanze! Stasera mamma e papà Pig vanno a cena fuori per la festa di San Valentino! Mamma Pig ha prenotato un taxi! È quasi arrivato! È viva! È viva! La vostra auto vi attende! Mamma Pig ha prenotato un taxi speciale per spagno! Si chiama Limousine! Un all'albero! Un allimo! Che romantica! E solleticante! Dove andiamo, signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig! La ringrazio, signorina coniglio! Peppa e George mangeranno l'albero! Mangiare! Mangiare! Vale, calmare! Questa musica mi ricorda Venezia! Fu un viaggio veramente meraviglioso! Ora è il ladisconimo! Questo non c'era a Venezia! Vuoi un cioccolatino, mamma Pig? Non ti dispiacerà se... Possiamo mangiarne qualcuno! Cioccolato! Va bene, ma non troppo! Peppa e George adorano il cioccolato! Forse un po' troppo! Allora mangerò questo qui! Possiamo rimettere la disco music? Solo fino a casa di nonno e nonna! Ti prego! Ciao! Felice San Valentino Ballerino a tutti! Balliamo! Forza! Oggi è un San Valentino Ballerino! Grazie! Come quella volta a Parigi, nonno Pig! Tutti amano festeggiare il giorno di San Valentino! Ma mamma e papà Pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco live! Ciao! Oggi Peppa va a casa di Rebecca Coniglio! Ciao! Ciao, ciao! Oggi Peppa è già arrivata a casa di Rebecca Coniglio! È venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato... Il raccoglietore di carote! Ti va di giocare? Sì, grazie! Sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco! Santo cielo! Peppa non sa come inserire il cd! Sì, in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco! Ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare, Rebecca! Oh sì! Lo sapevo come si fa! Prima scegli il tuo coniglio! Poi saltelli in giro e raccogli le carote! Oh sì! Peppa è incredibilmente brava con i videogiochi! Ma forse per questo ha bisogno di una mano! E sai come si raccolgono le carote, Rebecca? Guarda, così! Evviva! Adesso ho capito! Tocca a me! Rebecca Coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco! Oh! Sei molto brava a raccogliere le carote, Rebecca! Ho solo fatto molta pratica! Ti va di giocare insieme adesso? Possiamo formare una squadra? Sì! Prisa! Prisa! Ne ho una! Oui! Carote! Ecco! Nuovo record! Peppa e Rebecca formano un'ottima squadra! Rosie! Robbie! Che state facendo? Ciao piccole! Avete visto le gemelle? Hanno preso il pranzo! Adesso ci pensiamo noi! Siamo brave a raccogliere carote! E piccole conigliette! E piccole conigliette! Trovata! Rosie! Ti ho presa! Robbie! Ti ho presa! È ancora buona! Peppa e Rebecca sono molto brave a raccogliere carote! Sììì! Evviva! Il pranzo è salvo! Insomma... Peppa e Rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote! Oggi Peppa e George giocano nella sabbiera! Peppa gioca con delle macchinine giocattolo! Ha un'autopompa, un'ambulanza, un escavatore e... George! Dov'è la macchina della polizia? Hanno perso la macchina della polizia! Mi dici dove l'hai messa, George? Macchina polizia! Non preoccuparti! La cerchiamo insieme! Sarà... Ahà! Un'avventura! Un'avventura! Peppa e George fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia! Prendiamo l'autopompa! Peppa e George iniziano a cercare con la loro autopompa! Anche io... Beviamo qualcosa! Per fortuna la pompa è piena di... Succo d'arancia! Peppa e George amano il succo d'arancia! Andiamo! Non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia! Forse è là! Sembra proprio così! Macchina polizia! Sapevo che l'avremmo trovata! Sì! Ora dobbiamo solo tirarla fuori! Bip! 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 Così ci metteremo un sacco di tempo! Dove stai andando, George? E' diventato un gigante! Peppa e George hanno trovato la macchina della polizia! Nino! 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 Dov'è l'escavatore, George? Ma sembra che dovranno partire per una nuova avventura per trovare l'escavatore! Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro! Oggi la famiglia di Peppa sta giocando a nascondino! Tocca a mamma Pig cercare! Ahah! Trovato! Oh no! Allora ti aiuterò a trovare Peppa e George adesso! Non ho proprio idea di dove possano essere! Proviamo in cucina! Dietro quella tazza di tè! Ce l'abbiamo fatta, George! A questo gioco siamo i più bravi! Peppa e George stanno cercando un nuovo nascondiglio! Nascondiamoci nel ripostiglio, sotto le scale! Questo sarà il nostro nascondiglio segreto! Oh! Papà Pig! Ma dove si saranno nascosti? Penso che non riusciremo mai a trovarli! Ma i papà ci stanno cercando dappertutto! Dobbiamo solo continuare a cercare, mamma Pig! Li troveremo! Un biscotto? Peppa e George restano nascosti nel ripostiglio per un po'. Poi per un bel po'. E poi per un altro bel po'. Secondo me non riusciranno mai a trovarci! Possiamo andare a prendere dei giochi, così passiamo il tempo! Qui niente! Nemmeno qui! Non ci sono! Dove sono? Cerchiamo! Continuiamo a cercare! Peppa e George stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio. Uscite fuori ovunque voi siate! Ma dove siete? E questa da dove è sbucata? Papà Pig! Tutto bene? Perfetto! Toccava a te passare l'aspirapolvere! Ecco! Ecco! Molto meglio! Teno sa! Dove pensi che siano Peppa e George? non sono sicuramente nel sottoscava peppa e george a giocare a nascondino sono i migliori del mondo tutti amano giocare a nascondino e peppa e george adorano il loro nascondiglio segreto oggi peppa e la sua famiglia sono al museo delle scienze non vedono l'ora di visitare la sala delle calamite oh queste non sono calamite sono pesci questi sono pesci di metallo peppa così noi possiamo pescarli con le calamite le canne da pesca proprio come sulla barca di nonno pig state attenti le calamite attivano diversi oggetti peppa e george stanno pescando tanti pesci di metallo e occhiali di metallo chiavi di metallo e tanti altri oggetti di metallo posso riavere il mio orologio per favore? grazie mille ciao 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 ecco qua non ancora usate le calamite per spostare lo slime magnetico forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime ecco le calamite lo slime contiene del metallo e per questo si attracca alle calamite vinco io vinco io non ho visto chi ha vinto che cos'era? guarda george ma cos'hanno a che vedere queste foto con le calamite? la lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo perciò ci si può disegnare hai molta fantasia george che ne pensi papà? sono proprio bello oh no di nuovo tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo beh tutti tranne papà pig ciao a tutti quanti è molto molto bello essere una regina oggi peppa fa finta di essere una regina con una torre tutta sua peppa l'ha costruita con i mattoncini oh salve sua maestà che torre meravigliosa oh e che belle papere george la mia torre è molto molto alta così io posso vedere tutto quello che fanno gli altri no la torre no george nel mio gioco non ci sono papere giganti forse potresti invitare george a giocare peppa è divertente giocare insieme ok george possiamo giocare alle costruzioni e riparare il castello che hai distrutto un po' a sinistra un po' a sinistra ora a destra ai suoi ordini sua maestà una papera no laggiù una papera gigante guardate george attento con le papere george il castello di mattoncini non è fatto per le papere io con te non ci voglio giocare mai più spero tu non dica sul serio peppa sì mai più io sono la regina dei mattoncini e le regine giocano quello che vogliono la regina peppa gioca molti giochi ma da sola non c'è divertimento non è molto bello essere una regina da sola cosa succede? oh cielo papà pig sta passando l'aspirapolvere e il pavimento trema oh no la mia torre finirà per crollare una papera gigante george sei venuto a salvare il castello mi scusi signora papera mi scusi sua maestà ripasso più tardi hai salvato la mia torre george tu e le tue papere volete giocare con me? a peppa piace giocare ma soprattutto le piace giocare con george oggi il signor toro sta facendo dei lavori all'asilo cosa sta facendo signor toro? sto costruendo un nuovo vialetto peppa ma proprio come noi esatto anche noi siamo operai operai? oh certo ma davvero? allora dovete indossare questi sto costruendo un nuovo vialetto peppa e i suoi amici stanno giocando a fare gli operai come il signor toro? allora mi metto all'opera come si costruisce un vialetto peppa? è facile non lo so come si costruisce un vialetto signor toro? beh per prima cosa bisogna sterrare il terreno con l'escavatore peppa ah già dobbiamo stellare il terreno con lo sbaffatore scavo 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 qua e là scavo 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 con celerità scava 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 qua e là scava 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 che felicità e ora che sta facendo signor toro? preparo il calcestruzzo peppa per riempire questa buca visto? il nuovo vialetto è fatto con un materiale molto resistente chiamato calcestruzzo oh certo anche noi prepariamo il calcestruzzo d'accordo ahah eccolo qua il calcestruzzo di peppa è fatto di sabbia bagnata e ora signor toro? ora arriva la parte migliore peppa la pausa per un tè eh già una pausa la facciamo anche noi hai visto la partita ieri sera? ho visto tutte le partite ieri sera quando il calcestruzzo si è asciugato è il momento di spianarlo cos'è quello signor toro? è un rullo compressore peppa serve a spianare il calcestruzzo noi non abbiamo un rullo compressore peppa possiamo usare i nostri piedi ma che cosa state facendo peppa? la cosa più importante signor toro salziamo ah sì ma certo c'è posto anche per me a peppa piace saltare sulla sabbia bagnata tutti adorano saltare sulla sabbia bagnata il treno dei tesori sta arrivando peppa pig e danny cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro di argento e broccoli i broccoli sono preziosi? sì sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti peppa e danny non stanno davvero guidando il treno stanno usando la loro immaginazione per giocare urrà! fermi! in nome dei... ladri! oh no! perro, pony e susy pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori ridateci subito tutto il vostro tesoro per favore no! oh va bene siete voi che dovete rubare il tesoro, susy siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro adesso che cosa facciamo? potete scappare oh giusto! andiamo! ehi! tornate qui ladri cattivi! ora peppa e danny fingono di essere dei poliziotti cattureranno i due ladri sì! oh! ci avete acciuffato? no invece no perché la vostra barca può volare madame gazzella le barche possono volare? le barche vere non possono volare ma quelle immaginarie ci riescono e come? è viva! ora pedro e susy sono su una barca volante oh ah sì anche il nostro treno può volare la poliziotta peppa e il poliziotto danny hanno quasi catturato i ladri si torna a casa è un gigante no lui è papà pig ed è venuto per portarti a casa carica! brava brava cosa state facendo? stiamo guidando delle barche e dei treni volanti papà oh accidenti! quanta immaginazione avete! peppa adora usare l'immaginazione tutti adorano usare l'immaginazione oggi peppa e mamma pig giocano agli autoscontri a patata city tanto non mi prendi rebecca oh sì che ci riesco vieni peppa abbiamo trovato un gioco nuovo è uno scivolo d'acqua vieni con noi dai adoro gli scivoli d'acqua scivoli? mamma pig non sa se le piacciono gli scivoli d'acqua perché non andiamo su qualcosa che non faccia gli schizzi come questa panchina oh che bello questo possiamo farlo anche dopo vieni mamma tutti sono arrivati al nuovo gioco acquatico le cascate di sedano qui è tutto pieno di schizzi ma proprio pieno sì sì gli adulti davanti grazie parlo con lei mamma pig si accomodi certo va bene divertitevi non è niente male il sedano tronco sta salendo molto in alto splice splash splash adoriamo fare splash non tutti amano fare splash volete fare un piccolo splash un grande splash o un gigantesco splash un gigantesco splash sì molto bene pronti? sì cinque contro uno si parte le cascate di sedano sono molto veloci e fanno tanti schizzi ecco qua finalmente è asciutto è stato incredibile e con tanti tanti schizzi mamma cosa fai ancora lì? le cascate sono fantastiche facciamo un altro giro ora mamma pig adora fare giganteschi splash tutti adorano fare giganteschi splash nonna pig non vede l'ora di scoprire la sua grande ed emozionante sorpresa buon copriano oh ma che bello guarda nonna devi soffiare la candelina ed esprimere un desiderio oh sì ma prima dobbiamo cantare la canzone degli auguri ma certo oh cielo ha iniziato a piovere proprio sopra le loro teste forza ripariamoci peppa e la sua famiglia decidono di continuare la festa nella serra al riparo dalla pioggia molto meglio almeno così non ci bagniamo e la candelina è ancora accesa oh è vero ora soffio la candelina ed esprimo un desiderio ma prima dobbiamo finire di cantare la canzone degli auguri tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te oh su quel tramezzino c'è una lumaca forse la serra non è il posto migliore dove mangiare per fortuna ha smesso di piovere presto torniamo fuori la festa della nonna si è spostata in giardino sotto l'albero di mele di nonno pig gelatina la mia preferita la mia preferita ma noi stiamo celebrando una festa di compleanno signor toro non preoccupatevi farò presto al massimo due settimane io ho un'idea coraggio venite con me nonno pig ha deciso di continuare la festa nel bollaio ciao giannino sara vanessa sono felice che partecipiate possono cantare anche loro la canzone degli auguri stanti attenti ai campbellini il vento ha buttato a terra tutto il cibo e le decorazioni noi volevamo fare una bella festa di compleanno per te e che esprimessi un desiderio oh peppa io voglio solo passare la giornata con tutta la mia famiglia e questo è il mio unico desiderio davvero? sì e quella torta a quanto pare è ancora buonissima sì nonna pig ama festeggiare il suo compleanno in giardino ma più di ogni altra cosa ama festeggiarlo con la sua famiglia ciao peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini peppa qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie ma si usano questi schermi speciali oh scusate perché non provi a ordinare un panino peppa? oh puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini ho tanta tanta fame vorrei un panino super super grande per favore lattuga pomodoro e tanto formaggio peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande capisco che tu abbia fame peppa ma forse ci hai messo troppo formaggio va bene ora tocca il comando invia così lo chef può iniziare gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto peppa e stanno lavorando per prepararlo sembra davvero buono e formaggioso ora tocca a george scegliere il suo panino guarda il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale soppesa george non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa ora tocca a mamma pig ordinare io ordino il solito pomodori, funghi, 6 cipolle sott'aceto 2 pete di formaggio, olive senza cetriolo metà peperone rossa e un pizzico di salsa piccante hai detto per caso cetriolo soppesa no no george no soppesa soppesa george no beh in fondo conoscere nuovi sapori fa sempre bene peppa e george si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma è molto formaggioso oh dinosau soppesa il panino di mamma pig è in preparazione è molto più grande di quanto pensasse oh mamma è pronto oh com'è grande non penso di riuscire a mangiarlo da sola ne volete un po' oh è un pochino piccante ma molto gustoso è il mio nuovo panino preferito tutti amano il loro panino anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato ciao bambini avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? oggi peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye ma cos'è il tie-dye madame gazzella? il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette si usa per creare disegni coloratissimi come questo oh avevo capito che avremmo tinto cravate questa è di mio nonno oh non preoccuparti Danny basta che sia un tessuto la tua sarà una cravatta dai-dye prepariamoci peppa e i suoi amici indossano guanti occhiali e un grembiule prima di cominciare innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua il tie-dye ha una tecnica particolare per tingere il tessuto oh potete usare il colore che volete ma ne bastano solo poche gocce ta-da per la mia maglietta userò il rosso il blu e il giallo portano il verde la mia cravatta diventerà rosa un bellissimo rosa io voglio fare una maglietta color arcobaleno i colori si sono mescolati creando un marrone fango non un arcobaleno oh nessun problema gerald il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi separatamente allora posso farla anche io color arcobaleno come no? è quello che faremo tutti quanti prima strizzate bene la maglietta e poi annodatela con gli elastici in questo modo dopo aver messo gli elastici e siete pronti è ora della pintura poco alla volta così tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori ora sembra un arcobaleno Peppa senza volerlo ha macchiato il grembiule con i colori a questo servono i grembiuli per proteggere i vestiti diciamo altre cose come le tende o le sedie o la tua borsa limitiamoci alle magliette e alle cravate per adesso è ora di metterle ad asciugare così potrete portarle a casa e all'uscita le magliette sono pronte è un arcobaleno ma è davvero fantastico il mio ha una puzzanghera sotto guarda questa è una cravatta rosa tie-dye tutta per te a tutti piace creare magliette tie-dye e a tutti piace anche indossare oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato a fare la spesa usano un oggetto speciale per scannerizzare quello che prendono abbiamo preso le patate, il latte, il pane attenta e i fagioli scusi signor toro il supermercato chiuderà tra due minuti dirigersi alle casse, grazie facciamo presto questo carrello ha una ruota che traballa, mamma prova con questo Peppa è molto meno traballante ma è più bello se traballa bello Lalla d'accordo ma scommetto che il mio è più veloce vi sfido davvero? uno, due, tre, via! guarda come vola aspetta, arriviamo prima prendiamo il cereale riluce, George presi Peppa e George passano in vantaggio ora cosa prendiamo, papà? oh, ehm il formaggio trovato ora la pasta big il piselli sorgerà ehm eccoli qua l'ultima cosa che manca è la carta igienica la carta igienica si trova proprio dall'altra parte del supermercato gentili clienti il supermercato sta per chiudere forza presto attenzione stiamo andando troppo veloci la famiglia di Peppa ha trovato la carta igienica in realtà ha trovato tanta carta igienica allora ragazzi il negozio adesso è davvero chiuso beh, lo sarà dopo che avrete pagato tutto Peppa e la sua famiglia amano andare al supermercato soprattutto per la carta igienica andiamo squadra supermercato io ho preso il carrello io ho la lista della spesa dinosaurio evviva! oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato mamma, perché non ci fermiamo mai? e perché la tua borsa fa questo rumore? eccoci arrivati oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato il reparto sfusi ma dove mettiamo il cibo che compriamo? in questi nel reparto sfusi le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo bene squadra io e papà leggiamo la lista Peppa e George voi riempite il contenitore pronti? sì! una volta finito il premio sarà il pranzo la prima cosa da prendere è il riso trovato! George, ci serve un contenitore per il riso quello è per le uova, George oh cielo! Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova che altro? oh adesso i cereali quella non è la bottiglia del latte? è perfetta, George ne sono caduti pochissimi grazie per aver pulito, dinosauro ora abbiamo il latte la bottiglia del latte è già stata usata per i cereali quindi nessuno sa dove mettere il latte George pensa che dovrebbero usare il cartone del succo ottima idea, George e poi? ora c'è... il succo d'arancia ma Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo usa la busta per il riso, George ora ci manca solo la pasta vai! questa settimana mangeremo un sacco di pasta ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare oh, quante cose avete preso? allora abbiamo una scatola per uova di riso una bottiglia di cereali un cartone di latte un sacchetto di pasta e... una busta di succo d'arancia il solito insomma dinosauro il dinosauro di George ha mangiato dei cereali da terra un sacchetto di sottotitura 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 un sacchetto di sottotitura